Abbiamo un potenziale straordinario, siamo stati dotati di mille qualità, mille talenti, mille possibilità e a volte ci limitiamo soltanto perché non ci crediamo, perché ci è stato detto che non si può fare, perché non pensiamo di valere abbastanza. Ma credo che l'obiettivo non sia in effetti vivere a lungo, sia vivere bene, stare bene e avere delle soddisfazioni. Per cui se c'è un qualcosa che ci stimola, che ci dà l'idea di poter fare un qualcosa di diverso, di poter ottenere un qualcosa di diverso, di mettere quel sale, quel pepe, quell'energia nella nostra vita che veramente non ci sarebbe, dobbiamo giocarcela. Dobbiamo giocarcela perché veramente non hai niente da perdere, perché intanto non farlo hai già perso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.